In un cantiere possono essere inseriti uno o più piani operativi di sicurezza. Per inserire un nuovo POS è necessario che sia presente almeno un'impresa nella sezione dati dell'opera alla quale in precedenza sarà stata assegnata una o più lavorazioni. Ad esempio alla ditta rossa assegniamo la fase lavorativa relativa all'impianto elettrico civile e alla ditta bianchi l'intera categoria relativa ai solai. La gestione dei collegamenti fasi-imprese può essere ottimizzata e velocizzata con l'omonimo comando del menu contestuale o del tasto operazioni che permetterà di assegnare più fasi o categorie alle relative imprese. Utilizzare i comandi appendio inserisci nella sezione elenco dei POS selezionando per quale impresa si sta redigendo il documento, scegliendo se si vogliono includere o meno le schede di lavorazioni complete e il programma delle demolizioni. Il programma delle demolizioni viene stampato in un apposito capitolo all'interno del piano operativo di sicurezza in caso di presenza di lavori di demolizione. Affinché il capitolo del POS venga correttamente compilato le lavorazioni devono essere contrassegnato dall'apposito flag inserire fase lavorativa nel programma delle demolizioni e devono essere inserite nella pianificazione dei lavori. In seguito verrà richiesto se vogliamo visualizzare l'indice degli argomenti del piano operativo di sicurezza creato, che verrà mostrato nella parte laterale di sinistra della finestra con una classica struttura d'albero. Sarà possibile personalizzare le informazioni relative alla durata delle attività dell'impresa ed aggiungere eventuali annotazioni nel relativo riquadro. Analogamente al PSC la visualizzazione del contenuto dell'indice degli argomenti di un POS sarà diversa a seconda della scelta iniziale del modello standard o semplificato. Quest'ultimo proporrà anche in fase di stampa una struttura differente. Grazie a tutti.